Brucchi prende tutti i contropiede e annuncia Ora in consiglio vi ci porto io una lettera stringata, quella scritta dal primo cittadino di Teramo intorno al quale si sta ballando una danza funabre da parte di minoranze e maggioranze dissidenti Non tutti i suoi nemici però sono stati d'accordo a firmare la sfiducia davanti al notaio come proposto dal consigliere Gianluca Pomante E' proprio nelle maglie larghe di una mancata compattezza che Brucchi si è inserito convocando un consiglio comunale straordinario fissato per lunedì prossimo alle ore 16 Scrive il sindaco In considerazione degli ultimi accadimenti e dei ripetuti tentativi di delegittimare questa amministrazione dal mandato conferito dei cittadini all'esito delle elezioni ritengo che debba essere io a portare la discussione sulla situazione politica in consiglio comunale In tale sede istituzionale, continua Brucchi ho iniziato la mia bellissima e straordinaria avventura da sindaco ed è nella stessa sede che evidentemente essa deve concludersi I tatticismi non mi interessano, conclude il primo cittadino di Teramo Io il coraggio di confrontarmi ce l'ho, altri lo devono ancora dimostrare Non si fa attendere alla replica del consigliere Pomante che accusa il Partito Democratico di non aver voluto firmare la sfiducia e annuncia fuoco e fiamme in consiglio comunale contro tutto e tutti un appuntamento quello di lunedì prossimo che probabilmente segnerà la fine dell'era Brucchi il quale però venderà cara la pelle e già si parla di un suo lungo discorso che lui stesso dedicherà ai cittadini terramani Un addio ma anche un atto di pesante accusa con nomi e cognomi di quelli che a suo dire hanno decretato la sua fine politica come sindaco della città Grazie a tutti